amici apriamo insieme questo peluche misterioso di niso possiamo trovare tutti questi peluche ispirati ai segni zodiacali spero di trovare o il mio o quello di daniele 3 2 1 vediamo quale abbiamo trovato cos'è non di certo il mio abbiamo trovato i peluche della vergine fatemi sapere qual è il vostro segno zodiacale ciao